Capitolo ventottesimo Son passati due giorni. È una sera estiva. Il vetturino mi ha lasciato in una località chiamata White Cross. Non poteva condurmi più in là per la somma che gli avevo data e io non possedevo più un'ombra di uno scellino. La diligenza è ormai un miglio distante. Sono sola. Scopro che ho dimenticato il pacchetto nella rete della vettura, dove l'avevo posto per sicurezza. Là è rimasto e là rimarrà e quindi non possiedo assolutamente nulla. White Cross non è una città e neppure un villaggio. È un pilastro di pietra in mezzo a un crocevia, dipinto di bianco suppongo per renderlo visibile a distanza e nell'oscurità. Quattro strade si partono da esso e secondo la scritta la più vicina è a 15 chilometri e la più lontana 25. Dai nomi noti di queste città aprendo in quale contea mi trovo. Sono le terre continentali del nord, coperte di brughiere e attraversate da montagne. Ed eccole. Da ogni lato intorno a me si stendevano brughiere ed elevazioni montane. Si trovavano al di là di una profonda valle che si trovava ai miei piedi. La popolazione vi doveva essere rada e non vedevo nessuno per quelle strade che si dirigevano verso i quattro punti cardinali, bianche, lunghe e solitarie. Sono tagliate nella landa e sui margini cresce l'erica fitta e selvaggia. Non desideravo essere vista dai passanti. Potevano chiedersi che cosa stavo facendo ferma a una pietra miliare senza nessuno scopo apparente. Mi potevano interrogare e le mie risposte sarebbero parse forse incredibili o potevano destare sospetti. Non avevo alcun negame con gli uomini in quel momento. Non un'attrattiva o una speranza che mi chiamava vicino ai miei simili. Nessuno di loro mi avrebbe concesso un pensiero o un augurio di bene. Non avevo altro parente se non madre natura e nel suo seno cercai riposo. Entrai nell'erica e seguì un fossato scavato nella brughiera. Affondai fino al ginocchio nelle erbe brune. Seguì le sue giravolte e trovai in un angolo ascoso un blocco di granito coperto di muschio. Sedetti sotto di esso. Intorno a me c'erano le altre sponde della brughiera. La roccia mi proteggeva la testa, al di sopra il cielo. Anche qui passò qualche tempo prima che mi risentissi tranquilla. Avevo la vaga paura che mi si avvicinasse qualche mucca selvaggia, che mi scoprisse qualche viandante. Se sentivo un frusciare di vento mi allarmavo nel timore che fosse un toro. Se udivo l'urlo di un piviere credevo fosse un uomo. Visto che le mie apprensioni erano infondate, trovai finalmente la calma nel profondo silenzio che accompagnò il calar della sera e mi rinfrancai. Fino allora non avevo pensato, ma solo ascoltato, vigilato e temuto. Ora potei di nuovo riflettere. Che fare? Dove andare? Domande insolubili. Quando uno non sa che fare e non sa dove andare. Quando le gambe stanche e tremanti devono percorrere una lunga strada prima di poter raggiungere le abitazioni umane. Quando si deve implorare un alloggio, affrontare una simpatia esitante, rischiare dei rifiuti quasi certi prima di farsi ascoltare o poter soddisfare uno dei nostri bisogni. Toccai l'erica con la mano. Era asciutta e ancora calda della giornata estiva. Mirai il cielo sereno. Una stella benigna scintillava proprio sopra il fossato. La rugiada cadeva con dolcezza, non soffiava alito di vento. La natura era generosa e benigna. Forse essa mi amava, ora che esiliata dagli uomini. Non potevo aspettare che indifferenza insulti e mi cingeva con abbraccio filiale. Quella sera almeno sarei stata sua ospite e sua figlia. Mia madre mi avrebbe ospitato gratuitamente. Avevo ancora un boccone di pane, il resto della pagnotta che avevo acquistato in una città per la quale si era passati nel pomeriggio con gli ultimi soldi. Dei mirtilli luccicavano qua e là come grani di giada. Ne raccolsi una manciata e li mangiai col pane. Così calmai seppure non soddisfeci la fame che quel pasto da eremita comportava. Recitai le preghiere della sera e mi preparai a dormire. Presso la roccia l'erica era molto alta, i miei piedi vi furono sepolti. Da ogni lato era così alta da lasciare poco spazio all'aria notturna. Raddoppiai lo scialle e me lo distesi sopra come una coperta. Una sporgenza muschiosa mi fece da guanciale. Così avrei potuto sentirmi calda almeno all'inizio della notte. Avrei potuto riposare in pace se il mio cuore non fosse stato tanto triste. Soffrivo delle ferite aperte e sanguinanti. Tremavo per la sorte del signor Rochester, piangevo per lui e lo chiamavo con desiderio incessante. Ero come un uccello con le ali ferite che freme in vani i tentativi di prendere il volo. Spossata da questi pensieri dolorosi mi inginocchiai. Era ormai notte ed erano apparse le stelle. Una notte calma, troppo serena per farsi complice della paura. Si sa che Dio è dappertutto, ma la sua presenza si sente maggiormente quando le sue opere si rivelano nella loro immensità. In una notte pura, allorché i mondi seguono il loro silenzioso corso nel cielo, si sente che Egli è infinito, onnipresente, onnipotente. Mi ero inginocchiata a pregare per il signor Rochester. Guardando in su, con gli occhi offuscati dalle lacrime, vidi immensa la Via Lattea. Quegli astri innumerevoli che attraverso lo spazio non lasciano nel cielo che una tenue traccia di luce mi fecero sentire la grandezza e la potenza di Dio. Mi sentii sicura che Egli avrebbe salvato l'opera sua, convinta che non avrebbe lasciato perire la terra né una sola creatura vivente. La mia preghiera si mutò in ringraziamento. La fonte della vita era anche la salute dello spirito. Il signor Rochester era al sicuro, apparteneva a Dio, e Dio l'avrebbe vigilato. Mi annidai nuovamente in un seno all'altura, e poco dopo ugliai nel mio sonno le mie pene. Ma il giorno seguente il bisogno mi si presentò pallido e nudo. Gli uccelli avevano lasciato i loro nidi. Le api, all'aprirsi del giorno, erano uscite in cerca di miele prima che la rugiada si asciugasse, e il sole riempiendo cielo e terra aveva già scorciato le ombre. Mi guardai intorno. Era una giornata calda e magnifica. La landa si stendeva come un deserto dorato, e su tutto splendeva il sole. Come avrei voluto poter vivere in tutto e per tutto in quel luogo? Vidi una lucertola saiettare sulla roccia, e un'ape ronzare affaccendata intorno ai dolci mirtilli. Avrei desiderato in quel momento diventare un'ape, o una lucertola, per poter trovare nutrimento e ricovero. Ma ero un essere umano, e non potevo perdere tempo dove non avrei potuto soddisfare i miei bisogni. Mi alzai, e osservai il giaciglio che avevo lasciato. Come avrebbe fatto bene il creatore durante il sonno quella notte a richiamare a sé la mia anima. E lo stanco corpo sarebbe stato dalla morte sottratto alle future lotte contro il destino, e avrebbe trovato pace mescolandosi alla terra di quel deserto. Invece sentivo ancora pulsare in me la vita con tutte le sue esigenze, i suoi dolori e le sue responsabilità. Bisognava portare il fardello, continuare a soffrire, rispondere alle responsabilità. Mi misi in cammino. Ritornai a Whitcross, e segui la strada opposta al sole, già cocente e alto. Nessun'altra ragione mi guidò nella scelta. Camminai un pezzo e quando giudicai d'aver fatta abbastanza strada, sedeti su una pietra con le membra sfinite, e mi abbandonai all'apatia che mi appesantiva cuore e corpo. Sentii gli ecchi di una campana, la campana di una chiesa. Girai in quella direzione e là, fra le romantiche alture di cui da un'ora non avevo cessato di notare gli aspetti vari, scorsi un villaggio in campanile. Tutta la vallata alla mia sinistra raccoperta da pascoli, da campi di grano e da bosco. Un fiume scintillante serpeggiava fra le varie intonazioni di verde, il frumento maturo, la boscaglia scura, la prateria lucente e assolata. Mi voltai richiamata da un rumore di ruote sulla strada. Escorsi un pesante carro che saliva faticosamente la collina, e poco dietro due mucche col bovaro. La vita e il lavoro umano mi erano vicine, come gli altri dovevano lottare per vivere. Alle due del pomeriggio circa entrai nel villaggio. A metà della sua unica strada c'era una botteguccia con delle pagnotte in vetrina. Morivo dalla voglia di mangiare del pane. Con quel ristoro avrei potuto recuperare un filo di energia, altrimenti difficilmente avrei potuto continuare a camminare. Non appena mi trovai fra i miei simili provai il desiderio di riacquistare forza e vigore. Capivo che sarebbe stato vergognoso morire di fame in mezzo alla strada di un villaggio. Possedevo qualcosa che potevo offrire in cambio di uno di quei pani. Avevo un piccolo fazzoletto di seta legato intorno al collo. Avevo un paio di guanti. Ma non sapevo come si comportano gli uomini quando sono agli estremi delle loro risorse. Non sapevo se sarebbero stati accettati codesti oggetti o quale dei due sarebbe stato accettato. Tuttavia dovevo tentare. Entrai nella bottega. C'era una donna. Vedendo una persona vestita decentemente, supponendo che si trattasse di una signora, mi venne incontro con cortesia. In che cosa poteva servirmi? Mi sentì intimidita e la lingua si rifiutò di pronunciare la domanda che avevo preparata. Non osai offrirle i guanti usati e il fazzoletto spiegazzato. Capì l'assurdità del mio progetto. Le chiesi solo di poter sedere un istante per riposarmi. Delusa nella sua aspettativa di un cliente, accondiscese freddamente alla mia richiesta e mi accennò una sedia. Mi ci lasciai cadere, sentì voglia di piangere, ma mi trattenni comprendendo quanto le lacrime sarebbero state fuori di luogo. Poco dopo le chiesi se c'era nel villaggio una sarta o una cucitrice di biancheria? Sì, due o tre, mi rispose. Abbastanza per la richiesta che c'è. Riflettei. Ormai ero in gioco e mi trovavo faccia a faccia con la necessità. Ero senza risorse, senza amici, senza un soldo. Dovevo fare qualcosa. Che cosa? Dovevo trovare un'occupazione. Dove? Sa se qualcuno ha bisogno di una domestica nei paraggi? No, non lo sapeva. Qual era l'industria principale del posto? Di che cosa si occupava la popolazione? Alcuni lavoravano nelle fattorie, molti lavoravano nella fabbrica di aghi del signor Oliver o nella fonderia. Fa lavorare anche le donne il signor Oliver? No, è lavoro da uomini. E che cosa fanno le donne? Non lo so, rispose. Chi fa una cosa, chi l'altra? La povera gente tira avanti come può. Pareva seccata delle domande. E veramente che diritto avevo di importunarla. Entrarono una o due vicine, evidentemente occorreva il mio posto. Presi con gedo. Risalì la strada guardando le case a sinistra e a destra, ma non potei trovare un pretesto per bussare a una di esse. Errai intorno al villaggio e per un'ora o due continuai ad allontanarmi e a ritornare indietro. Esausta e affamata ormai, presi un sentiero appartato e sedei sotto una siepe. Trascorsi alcuni minuti, ritornai sui miei passi e di nuovo cercai qualche cosa, una risorsa o almeno un'informazione. In fondo al sentiero c'era una graziosa casetta, circondata da un giardino, bentenuto e splendente di fiori. Mi fermai. Con che ragione mi sarei avvicinata alla sua porta bianca e avrei toccato il battente lucente? Che interesse avrebbero avuto gli abitanti di quella di Mora a servirmi? Mi avvicinai tuttavia e picchiai. Una giovane donna, molto linda e dall'aria dolce, aprì la porta. Con animo disperato e la voce spenta chiesi se avevano bisogno di una domestica. No, essa disse, non teniamo domestiche. Non può dirmi dove potrei trovare una qualche occupazione. Sono nuova del posto e senza conoscenze. Desidero trovare lavoro, non importa quale. Ma non era affar suo di pensare a me o di cercare un posto per me. E poi la mia presenza, la mia situazione e le mie parole dovevano sembrarle sospette. Scosse la testa. Le spiaceva di non potermi dare nessuna informazione. La porta bianca si chiuse lentamente e mi lasciò fuori. Se fosse rimasta aperta un momento di più, avrei chiesto forse un pezzo di pane. Mi sentivo ormai agli estremi. Non potevo sopportare l'idea di tornare nel sordido villaggio, dove fra l'altro non vedevo la possibilità di trovare aiuto. Avrei preferito prendere il cammino nel bosco, che vedevo non lontano, e che mi avrebbe offerto riparo sotto le sue ombre fitte. Ma ero così stanca e affamata che l'istinto mi riportò nuovamente intorno alle abitazioni, dove c'era probabilità di trovare cibo. Non avrei trovato né solitudine né riposo, finché l'avvoltoio della fame mi dilagnava le carni. Mi trascinai vicino alle case, le lasciai e poi ritornai. E poi andai di nuovo vagando, sempre respinta dalla consapevolezza di non aver nessun diritto di chiedere, nessuna ragione da aspettarmi di suscitare interessamento. E mentre peregrinavo come un cane randaggio, il pomeriggio avanzava. Attraversando un campo scorsi il campanile della chiesa. Mi avviai da quella parte. Vicino al cimitero, in mezzo a un giardino, sorgeva una piccola casa di solida costruzione, che certamente era la parrocchia. Ricordai che in caso di bisogno gli stranieri che giungono in un paese, dove non hanno amici, si rivolgono al parroco per appoggio e aiuto. Era dovere del pastore, con un consiglio almeno, di soccorrere i bisognosi. Sentivo di aver là qualche diritto di chiedere aiuto. Mi feci coraggio. Raccolsi le mie ultime deboli forze, raggiunsi la casa e bussai alla porta della cucina. Una vecchia mi aprì. Chiesi se era la parrocchia. Sì? C'è il pastore? No. Tornerà presto? No. È assente? È lontano? Non molto. Ha circa cinque chilometri. È stato chiamato al letto del padre morto improvvisamente. E ora è a Marsha End e vi rimarrà una quindicina di giorni. Non c'è una signora nella casa? Mi rispose che non c'era e che lei era la governante. Non potei rassegnarmi a chiederle soccorso. Non poteva ancora mendicare. Mi allontanai trascinandomi. Ancora una volta mi tolsi dal collo il fazzoletto e pensai alle pagnotte della botteguccia. Sono una crossa. Solo un boccone per calmare i morsi della fame. Istentivamente mi diressi nuovamente verso il villaggio. Trovai la bottega ed entrai. E sebbene vi fossero dagli altri avventori, osai chiedere alla donna se voleva darmi una pagnotta in cambio del fazzoletto. Essa mi guardò sospettosa. No, non faccio mai cambi di questo genere. Quasi disperata le chiese la metà di un pane. Rifiutò, dicendomi che non sapeva come mi ero procurato il fazzoletto. Le chiese se voleva i guanti. Mi rispose di no, che non sapeva che farsene. Non è divertente indugiare in questi dettagli. Alcuni possono trovare piacere a ricordare le dolorose esperienze del passato, ma a me oggi è quasi insopportabile ritornare col pensiero ai tempi di cui narro. L'avvilimento morale unito alla sofferenza fisica formano un ricordo così straziante da non costituire un argomento allettante. Non biasimavo nessuno di quelli che mi respingevano. Capivo che non potevo aspettarmi altro e che non c'era nulla da farci. Una comune mendicante solleva spesso del sospetto, ma questo avviene di regola se è ben vestita. A dir la verità, quel che io chiedevo era un'occupazione, ma chi poteva sentire interesse a cercarmi un'occupazione? Certamente nessuna di quelle persone che mi vedevano per la prima volta e che non mi conoscevano. E la donna aveva ragione di non accettare il mio fazzoletto in cambio del suo pane, se non ci vedeva chiaro o l'affare non le pareva vantaggioso. Ma ora, stanca del soggetto, andrò per le spiccia. Cominciava già ad annottare quando passai davanti a una fattoria. Un contadino seduto sulla soglia mangiava del pane e del formaggio. Mi formai e dissi, mi vuol dare un pezzo di pane? Perché ho molta fame. Egli mi fissò sorpreso, ma senza rispondere tagliò una fetta della pagnotta e me la porse. Certo non mi aveva preso per una mendicante, ma per una dama eccentrica che aveva voglia di pane scuro. Appena fui fuori vista, mi misi a sedere e mangiai. Non potevo sperare di trovare quella sera un tetto per dormire e cercai un rifugio nel bosco. Ma passai una notte senza pace. Il suolo era umido e l'aria fredda. Più volte si avvicinarono dei passanti per cui cambiai posto senza trovare né quieta né sicurezza. Verso mattina cominciò a piovere. Tutto il giorno seguente fu piovoso, ma non darò un resoconto particolareggiato della giornata. Come il giorno innanzi cercai lavoro e come il giorno innanzi ricevetti dei rifiuti e mi sentii morire dalla fame. Solo una volta portai qualcosa alla bocca. Alla porta di una villetta vidi una bimbetta a gettare dell'avena fredda nel truogolo del maiale. Vuoi darla a me? Le chiesi. Essa mi guardò stupita. Mamma! gridò. C'è una donna che vuole che le dia l'avena. Ebbene piccola, rispose una voce da dentro. Dagliela se è una povera. Il maiale non la mangia. La bambina mi versò in mano la pappa indurita e io la divorai con avidità. Al cadere del crepuscolo piovigginoso mi arrestai su un sentiero solitario per cavalli che stavo seguendo da un'ora o più. Le mie forze sono esaurite, dissi fra me. Sento di non farcela più. Passerò ancora una notte allo scoperto. E con questa pioggia dovrò distendermi sulla terra fredda e bagnata. D'altronde, come fare? Chi mi accoglierà? Sarà terribile, affamata, debole, interizzita e priva come sono di aiuto e di speranza. Con tutta probabilità morirò prima dell'alba. Ma perché non posso sottomettermi all'idea della morte? Perché dovrei conservare una vita senza valore? Perché so, credo, che il signor Rochester vive. E poi non posso accettare passivamente di morire di fame e di freddo. Addivina provvidenza, sostienimi ancora per un poco. Aiutami, guidami. Girai gli occhi vitri sul paesaggio triste e bromoso. Mi ero ormai molto allontanata dal villaggio e non lo scorgevo più. Le coltivazioni che lo circondavano erano scomparse. Per sentieri traversi e via appartate ancora una volta mi ero avvicinata alla brughiera. Ormai solo pochi campi selvaggi e improduttivi come la terra a cui erano stati faticosamente strappati mi separavano dalla collina sprofondata nelle tenebre. Preferisco morire lontano da un sentiero o da una via frequentata, pensai. Meglio che i corvi mi strappino la carne dalle ossa che essere chiusa nella bara di un ospizio. Girai verso la collina e mi fermai a cercare un fossato dove mettermi distesa e sentirmi almeno nascosta se non sicura. Ma sulla sua superficie non appariva nessun dislevello e nessuna variazione, se non di tinta. Verde dove giunchi e muschio accoglievano gli stagni, nera dove il suolo asciutto non ospitava che la desolazione. Col cadere dell'oscurità non potevo vedere queste differenze se non come semplici alternative di luce e ombra, poiché i colori sfumavano con lo spegnersi del giorno. I miei occhi erravano ancora sul monticello e lungo i margini della landa, perdendosi nello scenario più selvaggio, quando a un tratto vidi risplendere nell'oscurità fra gli stagni e le alture una luce. Il mio primo pensiero fu che si trattasse di un fuoco fatuo e stetti in attesa che scomparisse. Invece continuò a brillare senza né avvicinarsi né allontanarsi. «Sarà allora un falò?» mi chiesi e mi aspettavo che diventasse più grande, ma no, rimase sempre lo stesso. «Forse la candela di una casa?» allora pensai. «Ma se è là non posso raggiungerla. Si trova troppo lontana e forse anche a cento metri a che mi servirebbe? Se bussassi alla porta me la chiuderebbero in faccia». Mi accasciai e nascosi il viso contro il terreno. Rimasi così per un po'. Il vento notturno soffiava sulla collina e mi sfiorava, e si spegneva lontano in un lamento. La pioggia cadeva fitta mollandomi fino alle ossa. Se avessi potuto irrigidirmi nella benefica immobilità della morte, questa avrebbe potuto cadere senza che l'avessi avvertita. Ma la mia carne, ancora viva, sentiva brividi di freddo. Mi alzai dopo poco. La luce era ancora nello stesso posto, pallida, ma ostinata in mezzo alla pioggia. Trascinai le membra esauste lentamente verso quel punto. Percorsi la collina di Sbieco attraverso un vasto acquitrinoso che doveva essere stato insormontabile in inverno, e fangoso e scivoloso anche ora nel pieno dell'estate. Caddi e mi rialzai due volte. Quella luce era la mia ultima speranza. Dovevo raggiungerla. Attraversata la palude scorsi una traccia chiara attraverso la brughiera. La raggiunsi. Era un solco che saliva fino alla luce che splendeva su una specie di poggio in mezzo a un gruppo di alberi. Dalla forma e dal fogliame questi mi parvero delle conifere. La mia stella scomparve per un istante mentre mi avvicinavo, evidentemente perché vi si era interposto un ostacolo. Allunghei la mano nel sentire davanti una massa scura. Intuì che si trattava di pietre e di un muricciolo, entro cui, a guisa di palizzata, c'era una siepe alta e spinosa. La costeggiai a tastoni e mi apparve di nuovo un oggetto biancastro, un cancello, una porticina che si mosse sui gangheri quando la toccai. Da ciascun lato stava un cespuglio scuro, un agrifoglio o un tasso. Oltrepassati il cancello e gli arbusti, apparve alla mia vista il profilo di una casa, nera, bassa e piuttosto lunga. Non si vedeva più luce. Gli abitanti si erano ritirati per la notte. Era purtroppo probabile. Nel cercare la porta girai l'angolo e allora di nuovo risplendette quel chiarore amichevole attraverso i vetri all'osanga di una finestra grata, che stava a pochi decimetri sopra il livello del terreno, resa più piccola dal fogliame di edera o altra pianta rampicante che cresceva più fitta su questa parte della casa. L'apertura era così riposta e stretta che non erano state credute necessarie le tendine. Abbassandomi e scostando i rami, potei vedere all'interno. Si poteva benissimo scorgere una stanza con un pavimento di legno pulitissimo, una credenza di noce e una fila di piatti di stagno che riflettevano il riverbero di un bel fuoco di torba. C'erano un pendolo, una tavola di legno bianco, alcune sedie. La candela che mi aveva servito da guida abbruciava sulla tavola e alla sua luce una vecchia di aspetto rozzo ma lindissimo come tutto quello che la circondava lavorava a far la calza. Diedi un'occhiata a tutto questo che non aveva nulla di straordinario. Un gruppo di maggiore interesse appariva vicino al focolare, seduto tranquillo presso la fiamma ristoratrice. Due donne giovani e graziose di gran distinzione stavano su una sedia a dondolo, l'altra su uno sgabello più basso. Erano tutte e due vestite in gramaglie di crespo e bambagino e quei vestiti abbrunati facevano risaltare stranamente i colli e i visi chiari. Un grosso e vecchio pointer appoggiava la sua testa massiccia sulle ginocchia di una delle due giovani donne, mentre in grembo all'altra era accucciato un gatto nero. Quella cucina era un luogo ben umile per quelle ospiti. Chi erano? Certamente non le figlie della vecchia vicino al tavolo, perché mentre questa aveva un aspetto zotico le giovani erano gentili e raffinate. Non avevo mai visto i loro volti, eppure osservandoli mi pareva che i loro tratti mi fossero familiari. Non si potevano dire belli, perché troppo pallidi e gravi. Chine sul libro avevano un'aria pensosa e quasi severa. C'era fra loro un leggio con una seconda candela. Avevano due grandi volumi che spesso confrontavano, sembrava, coi libri più piccoli che avevano in mano, come se consultassero un dizionario per aiutarsi a tradurre. Questa scena era tanto silenziosa che pareva che le persone fossero le ombre di una lanterna magica, tanto placida che si potevano sentire le ceneri cadere dalla griglia e il pendolo fare tic-tac in un angolo buio, e mi pareva persino di distinguere il rumore dello sferruzzare della donna. Cosicché, quando una voce ruppe finalmente il profondo silenzio, potei sentire distintamente le parole. «Ascolta, Diana», disse una delle due giovani assorte nello studio. «Franze e il vecchio Daniel si trovano insieme di notte, e Franz racconta un sogno pauroso che l'ha svegliato. Ascolta!» E a bassa voce lesse qualche cosa, di cui non capì una parola. Era una lingua a me sconosciuta che non era né francese né latino. Non potevo dire se si trattasse di greco o di tedesco. «Impressionante!», aggiunse quando ebbe finito. «E lo gusto!» L'altra ragazza, che aveva sollevato la testa ad ascoltare la sorella, ripetì con gli occhi fissi al fuoco una riga di quello che aveva letto. «Più tardi feci conoscenza con la lingua e con quel libro. Perciò citerò qui quel passo, ma quando lo sentì per la prima volta, mi parve di sentire solo un rumore di bronzo percosso, senza alcun significato. «Da trat hervor ene anzu hegem, wie die ersterne nacht!» «Bene, bene!», esclamò con gli occhi sfavillanti. «Ti par di vedere un potente e misterioso arcangelo scorgerti dinnanzi. Questa riga vale cento pagine di stile trascurato. Allora si è fece avanti uno, simile a una notte stellata a vederlo. Io peso i pensieri sul piatto della mia ira e le opere col peso del mio furore. Mi piace!» Rimasero tutte e due in silenzio. «Vi è un paese dove si parla in questo modo?», esclamò la vecchia sollevando gli occhi dalla calza. «Sì, Anna, un paese più grande dell'Inghilterra, dove si parla in un'altra lingua. Beh, proprio non so come si possano capire fra loro. E se una di voi andasse potrebbe parlare come parlano loro?» «Potremmo probabilmente dire qualcosa di quello che loro dicono, ma non tutto, perché non siamo così brave come credi, Anna. Non sappiamo parlare tedesco e non possiamo leggerlo senza l'aiuto del dizionario.» «E che giovavento ne traete? Abbiamo intenzione di impararlo, o almeno un poco per guadagnare di più di ora.» «Benissimo, ma ora smettete. avete studiato abbastanza per questa sera?» «Credo di sì. Io sono stanca. E tu, Mary?» «Terribilmente. In fin dei conti è ben faticoso studiare una lingua con un solo lessico per maestro.» «È vero. Specialmente una lingua come il tedesco. Mi chiedo quando tornerà a casa St. John.» «Certamente non tornerà molto. Sono giusto le dieci.» guardando un piccolo orologio che portava alla cintura. «Piove forte, Anna. Vuoi avere la gentilezza di guardare il fuoco in salotto?» La donna si alzò. Aprì una porta attraverso la quale vidi un corridoio oscuro. Sentì che rimuoveva il fuoco di una camera in fondo e subito tornò. «Ah, bambine!» disse. «Che pena entrare in quella camera ora, all'aria così melanconica con quella poltrona vuota spinta in un angolo.» Si asciugò gli occhi col grembiule. Le due ragazze prima serie si fecero tristi. «Ma egli è in un luogo migliore.» Continuò Anna. «Non desidererebbe di ritornare qui. E poi nessuno ha fatto una morte più buona di lui.» «Hai detto che non ci ha nominato?» disse una delle signorine. «Non ne ha avuto il tempo, figliola. Se ne è andato in un minuto, vostro padre. Era stato un poco indisposto il giorno prima, ma nulla di preoccupante. E quando il signor St. John gli chiese se avrebbe avuto piacere di mandarvi a chiamare, egli lo prese a ridere. Cominciò con un poco di pesantezza, ossia quindici giorni fa. E andò a dormire per non svegliarsi più. Ma era quasi rigido quando vostro fratello entrò in camera. Ah, bambine, era l'ultimo del vecchio ceppo. Perché voi e il signor St. John siete diversi e assomigliati a vostra madre, e quasi istruiti come lei. Tu sei il suo ritratto, Mary. Diana assomiglia moltissimo a vostro padre. Io le vedevo così assomiglianti fra loro che non scorgevo la differenza che faceva la vecchia domestica. Erano tutte e due di carnagione chiara e di figura slanciata, e avevano un volto fine e pieno di intelligenza. Una forse aveva i capelli un poco più scuri dell'altra, e non erano pettinate allo stesso modo. I capelli castani di Mary erano separati dalla riga e disposti in morbide trecce, mentre la capigliatura più bruna di Diana ricadeva sul collo in folti riccioli. Il pendolo suonò le dieci. Ah, avrete voglia di cenare, immagino, disse Anna. E anche il signor St. John quando rientrerà. E cominciò a preparare il pasto. Le signorine si alzarono, come per recarsi in salotto. Le avevo osservate fino a quel momento, con tanta attenzione, e il loro aspetto e la loro conversazione mi avevano tanto interessato da farmi dimenticare la mia situazione. Ma ora essa mi ritornò alla mente tanto più disperata per contrasto. Mi pareva impossibile di indurre le abitatrici di quella casa a occuparsi di me, a convincerle dei miei bisogni e delle mie pene, a porre fine al mio peregrinare. Mentre raggiungevo la porta e picchiavo esitante, sentì che la mia speranza era solo un sogno. Anna aprì. Che cosa vuole? Chiese con aria meravigliata, espezionandomi alla luce della candela che reggeva in mano. Posso parlare alle sue signore? È meglio che dica a me quel che vuole. Di dove viene? Sono forestiera. E cosa fa qui a quest'ora? Chiedo un ricovero per la notte e un pezzo di pane. La diffidenza, il sentimento da me tanto temuto, si dipinse sul volto di Anna. Le darò un pezzo di pane, disse dopo un momento. Ma noi non possiamo alloggiare una vagabonda. Non mi ispira fiducia. Mi permetta di parlare alle sue padrone? No, no, che cosa potrebbero farle? Non dovrebbe andare in giro a quest'ora, non sta bene. Ma dove andrò se lei mi caccia via? Che cosa farò? Saprà bene che cosa fare, dove andare, non faccia niente di male, ecco tutto. Ecco qui, qualche soldo. E ora vada. Questi soldi non mi possono nutrire e non ho la forza di continuare a camminare. Non chiuda la porta, non chiuda la porta, per l'amor di Dio. E devo chiudere, piove dentro. Parli alle signorine. Lasci che le veda. Proprio no. Lei non è quella che dovrebbe essere e non è bello fare tanto fracasso. Si muova. Ma morirò se mi respinge. Non c'è pericolo. Temo che qualche cattivo proposito la porti a girare intorno alle case a quest'ora. Se ha dei compagni briganti o gente simile nelle vicinanze, dica loro che non siamo sole in casa. Che abbiamo con noi un uomo. E dei cani e dei fucili. E qui, l'onesta e inflessibile domestica sbatte la porta e tirò il paletto da dentro. Questo fu per me il colpo supremo. Dolore e disperazione si abbatterono sul mio animo. Avevo esaurite tutte le mie forze. Non mi era possibile fare un altro passo. Mi accasciai sui gradini umidi e torcendo le mani mandai un gemito, un pianto di profonda angoscia. Lo spettro della morte e lo spaventoso avvicinarsi dell'ultima ora. Quell'isolamento e l'espulsione dei miei simili. E non solo la mia ultima ancora di speranza. Ma la sorgente del coraggio era esaurita, almeno per il momento. Non mi resta che morire, dissi. Credo in Dio. Aspetterò in silenzio che si compia la sua volontà. Pronunciei ad alta voce queste parole. E ripensando a tutta la mia infelicità, mi sforzai di rimanere silenziosa e tranquilla. Tutti dobbiamo morire, disse una voce vicinissima a me. Ma non tutti sono condannati a una morte lenta e prematura, come toccherebbe a lei se dovesse morire qui di media. Chi parla? Chiesi spaventato da quella voce improvvisa, incapace di pensarla a una fonte di aiuto. Una forma mi era vicina. L'oscurità della notte e la mia vista indebolita mi impedivano di distinguere. Il nuovo avvenuto picchiò alla porta a un colpo forte e prolungato. E lei, signor John? gridò Anna. Sì, sì, fa presto ad aprire. Come deve essere bagnato e intirezzito con una sera così brutta. Entri. Le sue sorelle erano inquiete per lei e credo che ci sia della gentaglia in giro, è stata qui una mendicante. Vedo che non è ancora andata via, è qui per terra. Si alzi, che vergogna, si muova, ho detto. Taci, Anna. Devo dire una parola a questa donna. Tu hai fatto il tuo dovere a cacciarla. Ora lasciami fare il mio ricevendola. Ero vicino e ho sentito la vostra conversazione. Credo che sia un caso eccezionale, devo rendermene conto. Donna si alzi e passi avanti. Obedì con difficoltà. Mi trovai nella cucina pulita e illuminata davanti al camino, tremante e sfinita, consapevole del mio pallore, del mio disordine e dei miei vestiti fradici di pioggia. Tutti avevano gli occhi fissi su di me. St. John, chi è? chiese qualcuno. Non lo so, l'ho trovata sulla soglia, fu la risposta. Come pallida. Pallida come la morte, qualcuno rispose. Sta per cadere, fatela sedere. E infatti la testa mi girò e mi sentì svenire, ma caddi su una sedia. Non potevo parlare, ma ero ancora in me. Forse un po' d'acqua la rimetterà. Anna va a prenderla, è ridotta a nulla, come magra ed esangue. È proprio uno spettro. È malata o solamente affamata. Affamata, credo. Anna, questo è latte? Dammelo con un pezzo di pane. Diana, la riconobbi dai lunghi riccioli che stavano fra me e il fuoco, portò del pane, lo inzuppò nel latte e me lo mise nelle labbra. Il suo viso era accanto al mio. Vidi la pietà che esso esprimeva e la simpatia che rivelava il suo ansimare. Anche le sue semplici parole rivelavano l'emozione. Cerchi di mangiare? Sì, cerchi, ripetè Mary con dolcezza e le sue mani mi tolsero il cappello tutto bagnato e mi sollevarono il capo. Dapprima mangiai con fatica quel che mi veniva offerto, poi con avidità. Non forzatela troppo di principio, disse il fratello. Ne ha preso abbastanza ed egli ritirò la tazza e il piatto. Un altro po', St. John. Guarda che voglia che ha negli occhi. Per ora basta, sorella. Cerca ora di farla parlare. Chiedile come si chiama. Mi sentivo di poter parlare e risposi. Mi chiamo Jane Elliot. Per timore di essere scoperta, pensai di prendere un altro nome. E di dove viene? Dove ha i suoi amici? Rimasi in silenzio. Può nominare qualcuno? Scossi la testa. Ci può dire qualcosa di sé? Ora che avevo varcata la soglia di quella casa e mi trovavo faccia a faccia coi suoi abitanti, non mi sentivo più esiliata e bandita dall'umanità. Non mi sentii più una mendicante. Ma ritrovai le mie maniere e il mio carattere. Ritrovai me stessa. E quando il signor St. John chiese delle spiegazioni, che al momento ero troppo debole per dare, dissi dopo una breve pausa. Signore, per questa sera non posso darvi particolari. Ma che cosa... disse. Vuole che faccia per lei? Nulla. Ho solo la forza per darvi delle risposte brevi. Prese la parola Diana. Vuol dire... disse. Che ora le abbiamo dato l'aiuto che chiedeva e che possiamo rimandarla in mezzo alla landa e sotto la pioggia di notte? La guardai. Il suo viso espressivo rivelava energia e bontà. Mi feci coraggio. Rispose al suo sguardo compassionevole con un sorriso e dissi. Mi fido di voi. Se fossi un cane randaggio so che non mi caccereste di notte da casa vostra. Lo so. E non ho paura. Fate di me quel che vi pare, ma perdonatemi se non posso parlare troppo. Mi manca il fiato. Mi guardarono tutti e tre in silenzio. Anna, disse finalmente St. John, Per ora lascia la seduta e non farle domande. Fra dieci minuti dalle quel che resta di pane e latte. Mary e Diana andiamo in salotto e parliamo sul da farsi. Uscirono. Un momento dopo una delle signorine tornò, non so quale. Un suave torpore mi aveva invasa sedendo davanti a quel buon fuoco. Sottovoce diede degli ordini ad Anna. Poco dopo, con l'aiuto della domestica, mi fecero salire una scala. Mi vennero tolti i vestiti bagnati e mi ricevetti un letto caldo e asciutto. Ringraziai Dio, provando, pur nella sfinitezza di tutte le mie energie, un bagliore di gioia riconoscente. E mi fermentai. Bentornati su una razione senza importanza. Possiamo dire che qui parte la terza parte di Jane Eyre, quindi il nuovo cambio di scena. E troviamo quindi una Jane sperduta, sola, terrorizzata, senza risorse, che mi indica un pezzo di pane, un ristoro per la notte e incrocerà quello che è, insomma, l'arco finale della sua storia, se vogliamo, con St. John e le due sorelle, Diana e Mary. Insomma, come sempre vi ringrazio per essere state in mia compagnia. Se il mio progetto vi sta piacendo potete sostenerlo, iscrivendovi al canale, mettendo un like, un commento, condividendo il video. Potete venirmi a trovare anche su Instagram, narrazioni senza importanza e come sempre vi aspetto per il prossimo capitolo. Alla prossima! Grazie a tutti!